Sì, innanzitutto dopo questo periodo, diciamo difficile anche per Provinter, con due edizioni digitali, un evento di fine stagione, ci ritroviamo in un contesto che è completamente nuovo, dove le logiche di mercato sono cambiate e ci siamo adeguati anche noi, insieme agli espositori, ai marchi presenti, ai nostri partner abbiamo deciso di cambiare data, di andare all'inizio anno con questa edizione e devo dire che siamo molto soddisfatti soprattutto della risposta da parte degli espositori, abbiamo 100 espositori e oltre 200 brand che sono presenti e ci sono tante novità, innanzitutto novità di prodotto che abbiamo tentato anche di sottolineare sia dall'aspetto tecnico dell'innovazione sia anche dall'aspetto, diciamo, dello storytelling abbiamo premiato con oggi le aziende che sono state più avanti per lo sci e per i scarponi dello sci, che sono riusciti anche a raccontare al meglio la loro storia con una giuria che ha premiato due prodotti, questa è una grande novità che è rivolta sempre al tema del noleggio, ma oltre a quello la nuova data ci aiuta anche a portare tutti i negozianti, quindi il settore retail che ha risposto molto bene a questa edizione. Per noi il settore del retail è, diciamo, nuovo in un certo senso e ha risposto molto bene a questa edizione, quindi questa parte diventerà sempre più importante anche per il futuro di Provinter perché ci troviamo in un periodo in cui, diciamo, gli ordini vengono fatti per il settore del retail, siamo fiduciosi che con questa nuova data, con questo nuovo formato riusciamo a mettere insieme tutti gli attori del sistema. Una, sicuramente una cosa che si nota a questa Provinter è che non ci sono più solo i sci, che il settore sia anche in parte sviluppato in nuove direzioni, anche qui seguendo logiche di mercato e siccome sia il retail che anche il noleggio è sempre più interessato anche al tema delle bici, ci sono diversi espositori di questo settore che hanno gli stessi clienti, quindi negozianti e noleggiatori. Oltre a questo ovviamente ci sono i slittini, ci sono le ciaspole, il snowboard e l'alpinismo come temi che diventano sempre più importanti anche per il futuro. Il futuro di Provinter, diciamo, possiamo dire che è il presente anche di questi giorni, abbiamo riscontrato un forte interesse da parte degli espositori e manteremo sicuramente questa data anche di inizio gennaio, siccome è una data che ci è stata confermata dal settore che è giusta per le nuove logiche di mercato. Grazie a tutti.